La selezione e il merito sono uniti dall'attuale ordinamento legislativo. Io mi vanto, insieme a molte altre università, che abbiamo avuto una diminuzione del fondo di finanziamento ordinario, per dirla volgarmente, una multa per la selezione degli studenti. Questi sono gli scandali. Ed è inutile parlare della corruzione dei concorsi, del fatto che i concorsi sono pilotati, se non si risolve al monte il fatto che la selezione viene punita dall'attuale sistema. Una impostazione vetero-ideologica che oggi non è rappresentata da nessun partito che sopravvive per inerzia e che va spazzata via se si vuole cambiare il sistema. Questo è il vero problema. Ora, come ho detto prima, l'offerta formativa, ovviamente quella degli anni passati, degli ultimi quarant'anni che sono i primi di vita di questo pateneo, ha fatto sì che una quantità considerevole di magistrati che diventano tali a seguito di uno dei concorsi più selettivi che si trovano sul mercato del lavoro, quello per un dettore giudiziario, si siano collocati in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, provenendo da questa università. Un altro caso che cito come emblematico, e che forse è anche più noto già alla stampa, è che il responsabile del progetto informatico di restauro della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi è un laureato in architettura di Reggio Calabria, ma anche nel campo dell'ingegneria o delle scienze agrarie potrei citare molti casi. Non è, diciamo, questo fosse il luogo per dirlo, ma sono i fatti che oggettivamente io chiedo alla stampa di rappresentare, perché una informazione esatta può essere presentata in maniera tale che il suo reale valore venga capovolto. Io ho letto in un solo caso, per fortuna, che l'università di Reggio è un'università estremamente scadente, perché si è collocata al posto 1.383 fra 2.000 università in tutto il mondo. Questa notizia, che è perfettamente vera, è nello stesso tempo assolutamente falsa, perché quel numero di 2.000 è il 10% delle 20.000 università in cui noi ci siamo collocati nell'ambito della CREM, se così possiamo dire, dell'eccellenza, e quindi siamo 1.383 non su 2.000, ma su 20.000. E questa è, non vorrei dire la manipolazione che si può fare dell'informazione, ma il capovolgimento della realtà sta mantenendo il dato tale e quale è crudamente. Quindi è questo che io chiedo, l'appello che faccio alla stampa, di rappresentare una realtà e una valutazione di eccellenza che non ci autoconferiamo noi. Qui c'è un dipartimento che ha ottenuto il riconoscimento di eccellenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca Scientifica nelle università italiane, che è un ente, tra l'altro un dipendente dal ministero dell'università, il quale invece ha riconosciuto come se sua competenza l'eccellenza dell'adudazione di questo messo. E io ho visto nascere nel non 40 anni fa, ma più di 50, ai me, io ero credo in 16 anni, quando è nato un istituto superiore di architettura che è stato, diciamo, il momento di gestione che poi si è sviluppato in un vero e proprio Agenzia. Sono stato anche fondatore della Facoltà di Giurisprudenza qui a Reggio Calabria con il concorso di due politici che sono dei personaggi storici e uno purtroppo è scomparso e che erano di segno assolutamente antipedico politicamente. uno era il presidente dell'allora provincia Umberto Vinili e l'altro era il sindaco Italo Pottomata. Collocati agli estremi dello schieramento politico parlamentare, ma persone di grande intelligenza che hanno capito che questa esigenza della città andava sostenuta del tutto indipendentemente dalle ideologie e dai colori politici. Ora, io, e questo sforzo di oggettività che richiedo in un momento in cui la dirigenza che abbiamo avuto negli ultimi anni ha ferito l'immagine dell'università. Io qui non sono a ricostruire nulla di materiale, nemmeno fisicamente, come potete vedere, dallo splendore di questi edifici ben tenuti, né devo ricostruire per fortuna le finanze perché è stato fatto dai miei predecessori, le cui responsabilità io non voglio qui né diminuire né discutere ma per obiettività io devo dire che il mio compito è di una ricostruzione di valori assolutamente astratti però più importanti in questo momento anche dei dati materiali di eccellenza che vi ho esposto che sono quelli della dignità e dell'immagine di questa università con l'aiuto di tutti i colleghi di quel 90% che non è responsabile che non immaginava nulla di quello che accadeva e forse questo 90% è destinato a salire numericamente in progresso diciamo della situazione processuale io anche a nome e per la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri studenti chiedo alla stampa una rappresentazione oggettiva razionale e non emotiva perché l'emotività fa parte dell'infanzia e della immaturità mentre questo è il momento della maturità e della razionalità grazie passo una parola per continuare una parola al direttore generale che è sempre Zibalatti che prima di me è rimasto solo in questo calvario assumendosi con coraggio responsabilità perché non scadessero le date di procedure che sono che sono piombate addosso per una fase di circa 20 giorni in un mondo soprattutto amministrativo dove l'assunzione di responsabilità è schivata da un sociopiratismo di fuci grazie al rettore per questa importante introduzione entriamo nel merito quindi della presentazione dell'offerta formativa dell'anno accademico 22-23 ovviamente ad esporre la nostra offerta formativa saranno i due docenti che in questi ultimi anni hanno lavorato tantissimo sia nel settore dell'offerta formativa stessa che nel settore dell'orientamento e che sono stati protagonisti di un significativo e sostanziale incremento e potenziamento della stessa basti pensare che fino a pochi anni fa erano 26 curricula che venivano offerte dal nostro Ateneo siamo oggi a poter offrire ben 49 di questi curricula atteso che si sono attivate anche delle importanti sinergie nel campo della didattica con l'Università di Catanzaro cosa che ha consentito di appunto potenziare in maniera integrata l'offerta formativa stessa ma prima di passare la parola al professor Vitetta e alla professoressa della Spina io prego la nostra rappresentante in senato accademico Santina Romeo che è una studente è una studentessa magistrale in ingegneria informatica e telecomunicazione ad intervenire e a portare il suo saluto grazie buongiorno a tutti grazie direttore grazie direttore sarò breve perché è inutile perdere molto tempo sarò specifica sull'esperienza che mi ha offerto l'università in particolare sappiamo bene che scegliere l'università significa scegliere il nostro futuro e quindi anche affacciarsi al mondo del lavoro in questo periodo soprattutto diciamo post pandemico le caratteristiche in ambito lavorativo richieste sono in particolare incentrati sullo sviluppo sull'informatica e sull'ICT ed è per questo appunto che il mio percorso di studi è proprio incentrato su questo oltre all'aspetto didattico che è di gran lunga elevato l'università è stata in grado in questi anni di darmi diverse opportunità e soprattutto mi ha permesso di allargare gli orizzonti culturali e di crescita personale proprio recentemente ho avuto una grande occasione ovvero quello di partecipare a un bando nazionale le cui aziende che finanziavano proprio questa borsa erano in stretto legame con l'Ateneo partecipando ho vinto e mi sono recata a Dubai in Expo proprio per presentarlo questo è un caso singolo perché in questo momento lo sto sponendo io e si tratta di me ma è una realtà che diciamo va bene oltre diciamo la singola persona perché come me ci sono molti altri studenti che hanno cose del genere e spittano diciamo nel loro campo di